signori cari e belli come la va si 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 fa un nuovo video perché è arrivato un evento importante in gioco avete visto anche la maglietta che c'è qua parte la mergem no è appena partito quindi ci sono un po da spiegare alcune cose di come funziona per qualcuno di voi che magari non lo sa tutte le informazioni del caso like iscrizione al canale mi raccomando descrizione con tutti i nostri social seguiteci qua su youtube assolutamente sui nostri social per tutte le news per tutte le robe che facciamo del mondo di clash of clans che così vedete un po tutto e scoprite anche quando siamo in live su twitch che ci seguite anche lì ok code creator upload e andiamo sul gioco allora eccoci qua versione da sviluppatore alla mano che così vediamo in anteprima tanto è appena partito anche voi e lo state probabilmente vedendo voi stessi come funziona la mergem funziona che abbiamo i tempi dimezzati abbiamo per esempio se io vado sul mortaio vedete che costa 9 milioni 750 mila rispetto a prima la metà delle risorse quanto ci metto upgrade time sette giorni la metà rispetto a prima quindi riduzione dei tempi riduzione dei costi sia per le difese sia per gli eroi sia per i cuccioli sia per tutto quanto guardate alla regina per esempio anzi la campionessa 157 mila di nero quattro giorni di tempo per upgradarla eccetera 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 ok non solo questo non solo questo perché se noi andiamo a guardare le risorse notate qualcosa di diverso 18.900 la produzione per ogni ora triplicata la capacità un milione e cinquecento e cinquantamila triplicata anche quello quindi produzione di risorse all'infinito velocità all'infinito quando attacchiamo troveremo risorse in mani e tanta tanta roba signori cari non solo questo per i scioppettoni per quelli che gli piace scioppare quelli che possono per quelli che vogliono non si discute in negozio tanti pacchetti non so da il prezzo dirvelo ve lo vedete anche in bianco e nero perché alla versione da sviluppatore vediamo soltanto questo quindi potete comprare col code creator apple se volete o col code che preferite per la cronaca però se preferite apple è meglio potete scioppettare queste risorse queste offerte varie per andare ancora più veloce nel migliorare il vostro villaggio ok ultima cosa che vi devo riferire è che non so se avete visto tutto l'avvicinamento all'evento dell'hammer jam ma ci sono usciti dei vari video che vi hanno un po spiegato che era stato perso il martello vari spoiler c'era un investigatore strano che non si sa bene chi cacchio sia perché nel villaggio non si è mai visto prima costruzioni un po strane varie cose interessanti da guardare nei video sui canali ufficiali di clash clash e sui canali ufficiali di clash clash su youtube su facebook sui loro social in generale uscirà un video particolare anzi probabilmente già uscito quindi state bene attenti controllate un video particolare dove all'interno c'è un qr code in varie sezioni del video da scannerizzare e utilizzare per scattare delle ceste le famose ceste che abbiamo avuto qualche tempo fa che davano delle ricompense particolari gelatine mica gelatine skin bla 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 tornano queste ceste momentaneamente solamente con il link solamente in quel video quindi lo scannerizziamo ci tappiamo ci clicchiamo ci interagiamo e otteniamo delle ricompense quindi guardate i canali ufficiali di clash of clans e riscattate tutto il necessario signori cari penso di avervi detto tutto un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale spammate il video in giro per informare tutti i vostri amici portateli a guardarlo mi raccomando che è importante descrizione con tutti i nostri social link alle live di twitch code creator upload e alla prossima signori bye bye ciao 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 ciao